Grazie 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 Tutta la Luzzi Sambucina per te Dimmi Allora ho fatto un errore in gara 2 In posto di fare quarta terza ho poggiato quinta in un tratto Nonostante ciò nonostante le condizioni climatiche abbiamo alzato solo di un secondo Contentissimo di essere qui e di vivere anche quest'anno la Luzzi Sambucina Bene ringrazio sempre come al solito tutti quelli che ti conoscono Tuo padre La mia ragazza in primis che sembra al mio fianco Papà e un ringraziamento speciale per mio fratello Simone che ultimamente mi sta stando dietro più del solito Anche a farmi stare tranquilli in allineamento Bene grazie a te Chico Andiamo alla 3000 sempre gruppo a scadute terzo Francesco Di Diego Al secondo posto Genardo Cardi vince Saverio Scermo Ho già fatto un gran lavoro in gara 1 questi qua eh 0-9 avevo visto non so il tempo di gara 2 perchè sono salito non lo so Vi siete migliorati? No eh Vabbè comunque tutto bello questo podio gente competitiva Fa piacere Ecco si dice che consegna a Saverio la sua coppa Un grande applauso Grazie Grazie